CarboStory è un progetto promosso da Comieco per raccontare storie di imballaggi in carte e di cartone. Abbiamo girato Mezzitalia per intervistare i protagonisti di queste storie e per vedere direttamente le caratteristiche di ogni processo produttivo, ma soprattutto per farci raccontare da loro come sono nate le idee e se queste idee si sono successivamente trasformate in casi di successo. Stiamo parlando di imballaggi realizzati sia da piccole, medie e grandi aziende, sia da libero professionisti che hanno saputo con la loro creatività e con la ricerca fare innovazione attraverso l'impiego appunto di carte e di cartone. È stato un viaggio caratterizzato da molte sorprese, prevalentemente legate ai diversi approcci progettuali e alle modalità di utilizzo di questo materiale che è in grado di trasformarsi per soddisfare le diverse esigenze richieste da un imballaggio. Abbiamo anche cercato di raccontare storie di imballaggi differenti tra loro per capirne la filosofia di base ed individuare il comune denominatore della fase di ricerca e sviluppo. Pallet in cartone, processi di stampa e di ristampa ambientalmente sostenibili, imballaggi per elettrodomestici e per detersivi sono solo alcuni degli esempi raccontati in queste otto storie. Con queste otto storie abbiamo anche cercato di spiegare quello che è il lungo percorso di ricerca e sviluppo che è necessario seguire prima di arrivare alla soluzione finale del prodotto. È un percorso caratterizzato da dettagli, da continui prototipi, dalle prove di laboratorio per la resistenza del cartone oppure di stampa per i diversi colori, le scelte delle tipologie di cartone più donio ed è la logica con cui cordonare o tagliare un foglio. In questo viaggio quello che mi ha, ci ha particolarmente colpito, è stato l'entusiasmo di tutti i protagonisti nel raccontare il proprio progetto. Durante le diverse pause caffè a telecamere spente, quindi senza l'assillo di cercare di non sbagliare, si percepiva proprio la voglia di sfida continua per cercare di trovare soluzioni progettuali migliori, una voglia di continuare a fare innovazione attraverso l'impiego appunto di carte e di cartone. È stata per tutti un'occasione di confronto, di dibattito, che in qualche caso ha portato anche a sederci intorno a un tavolo per sviluppare schizzi e disegni di possibili modifiche da portare al prodotto, al progetto appena sviluppato. Sono 15 anni che nell'ambito della mia attività professionale mi occupo anche di carte e di cartone e nonostante ciò con il progetto Carbostory ho avuto la possibilità di invedere e di imparare cose nuove. Ho visto l'entusiasmo di imprenditori e progettisti nell'utilizzare questo materiale che credo proprio abbia ancora molte storie da raccontare. Grazie a tutti!